A tutti voi buona giornata, bentornati a questo appuntamento in diretta con a voi e la linea. Diversi collegamenti dal territorio anche oggi, andiamo subito a Parnelli e a Di Stregliano dove c'è per noi Paola Treppo, parliamo dello stabilimento della Mangiarotti la scorsa settimana all'annuncio della chiusura. Andiamo subito alla linea Paola Treppo. ...della Mangiarotti. Come hai già detto Tucci è stato l'annuncio, una doccia fredda per i lavoratori ma anche per tanti cittadini, per i sindaci, per gli amministratori locali della chiusura a settembre definitiva dello stabilimento della Mangiarotti. Siamo con Fabiano avvenuti della FIM, CISL e Davide Bassi della FIOM e CGL che stanno per entrare, tra pochi minuti entreranno in assemblea, incontreranno per la prima volta i lavoratori della Mangiarotti di Sedegliano, sono circa una settantina per capire insieme a loro se promuovero o meno delle azioni di protesta. Intanto vediamo la situazione fino a oggi. Fabiano, come siamo? Siamo molto preoccupati, a dir poco. L'assemblea oggi sarà utile per capire quali saranno le iniziative da mettere in campo se condivise con i lavoratori a fronte di una situazione che per anni e anni è stata negata dall'azienda, cioè quella di disinteressarsi allo stabilimento di Panneglia. L'azienda in tutti questi anni ha sempre dichiarato l'interesse a mantenere aperto questo stabilimento dedicato all'oil and gas e non ha mai, mai, mai dichiarato di voler chiudere le produzioni in questo stabilimento. In questi anni si sono susseguite diverse volte le voci di una chiusura, ma come appunto sottolineavi tu Fabiano, la proprietà ha sempre rassicurato e anche perché Mangiarotti è nata qua fondamentalmente e la produzione che avviene qui a Pannelli a oil and gas è diversa da quella di Monfalcone che invece fa nucleare. Sì, era anche una delle ragioni che utilizzava l'azienda per spiegarci il motivo per cui il sito di Pannelli era strategico, cioè le due produzioni, quella nucleare e quella oil and gas non sono compatibili, non è accettabile alcun tipo di promiscuità perché ci sono delle caratteristiche molto severe per quel che riguarda l'organizzazione del lavoro, la qualità, le certificazioni per quanto riguarda il nucleare, non che l'oil and gas ne sia privo. Davide vi avete avuto questa notizia in Asso Lombarda pochi giorni fa. Sì, noi eravamo impegnati all'incontro nazionale per la CIRTI, l'avvertenza di 833 esuberi a livello nazionale, ci siamo trovati via telefono a ricevere questa comunicazione di questa chiusura completamente inaspettata. Un problema perché noi avevamo chiesto inizialmente di spostare l'incontro però l'azienda ci ha detto non ci sono problemi, è solo un incontro di aggiornamento e questi qua sono i risultati dell'aggiornamento che ci ha dato l'azienda. Fabiano e Davide tra l'altro sono seguendo delle altre vertenze, diverse aziende purtroppo sono in situazione di difficoltà, vero Davide? Anche DM Electron, l'abbiamo detto anche alle TG poco fa. Sì, anche quella è un'avvertenza molto impegnativa e problematica perché venerdì sera l'azienda ha comunicato l'intenzione di voler chiudere il reparto produttivo di Buia, quindi ci sono una cinquantina di persone che perderanno il lavoro. Fabiano, Mangiaroti in passato ha avuto già delle difficoltà anche la parte di Monfalcone, fu aiutata loro da Friulia. Sì, effettivamente questo accadde perché c'erano proprio dei problemi finanziari e con l'intervento della regione su spinta ovviamente delle organizzazioni sindacali si riuscì a fare in modo che Friulia desse una mano a risollevare la situazione alla Mangiaroti. Se non ci fosse stato quell'intervento noi oggi non saremmo a parlare di questo neanche di questa comunicazione che ci è stata data settimana scorsa. Ecco, va detto che non c'è un licenziamento dei dipendenti che si trovano qui al stabilimento dell'app di Pannellia di Sedegliano della Mangiaroti, ma c'è un trasferimento. Però Davide è un trasferimento un po' complicato. È molto complicato perché calcolando le lavorazioni che vengono fatte qua e che verranno trasferite a Monfalcone non sono lavorazioni semplici e poco impattanti per il fisico degli operai. Uno che inizia a lavorare alle 6 di mattina deve svegliarsi alle 4.15-4.20, prendere la macchina da Sedegliano, andare giù a Monfalcone, saldare ad alte temperature tutto il giorno e la sera prima delle 4.30 non si torna a casa. È molto rischioso anche per la sicurezza dei lavoratori perché dopo 8 ore a fare una lavorazione di questo tipo, prendersi la macchina e farsi un'ora e mezza di strada è molto rischioso anche per i lavoratori. vediamo quali saranno le decisioni che le organizzazioni sindacali assumeranno insieme ai referenti di FIOM e FIM che appunto proprio tra pochi minuti, come dicevo prima, entreranno in fabbrica per alcuni e anche tra l'altro la prima volta, come per Davide che incontra appunto i lavoratori. Per diversi anni ci furono proteste, scioperi, ricordiamo Pannelli che è sempre stato un po' un nodo molto delicato. Adesso negli ultimi anni pareva che la situazione fosse rientrata. Ringraziamo i nostri ospiti e seguiremo per voi, vi riporteremo le novità, se ce ne saranno, nelle TG delle 19. Alessandra, per adesso qui da Pannelli è tutto. Io ti restituisco la linea, a voi la linea. Grazie allora Paola Treppo per questo aggiornamento in diretta da Sedegliano. Ci spostiamo, andiamo all'Istituto Kennedy di Pordenone che se vorrà potrà proseguire con il progetto dei tornelli posizionati all'ingresso per monitorare l'ingresso e l'uscita degli studenti e dei professori. A dirlo è il Tar che ha dato ragione alla Scuola Superiore Pordenonese che aveva presentato ricorso contro la revoca di contributo dell'Uti subentrata nella gestione dell'edilizia scolastica alla provincia. Daniele Micheluzza, raggiunto per noi Giuseppe Gaiarin, presidente dell'Uti del Noncello. Buongiorno, oggi parliamo della vicenda dei tornelli che qualche anno fa erano stati richiesti proprio dall'Istituto Kennedy, il quale aveva chiesto un finanziamento alla provincia, l'aveva ottenuto, 50 mila euro, 25 mila euro li aveva ricevuti subito, poi la provincia è stata sciolta, tutto è passato in mano all'Uti e siamo con il presidente Giuseppe Gaiarin, 25 mila euro che erano stati dati, l'Uti ha detto no, questo progetto non lo vogliamo così, non lo vediamo così, ridateci questo finanziamento. Adesso la sentenza del Tar che dice no, aveva ragione il Kennedy, questi soldi spettano a loro per i tornelli. Presidente, insomma, qual è la situazione e cosa succederà adesso? Innanzitutto è preciso che il problema l'abbiamo ereditato dalla provincia, è preciso inoltre che noi non è che abbiamo richiesto indietro i 25 mila euro, abbiamo detto utilizzateli per altre iniziative per la sistemazione e gli interventi di manutenzione dell'edificio. Ecco, questo è quello che abbiamo chiesto. Poi il Tar ha emesso questa sentenza, chiaramente noi la rispettiamo, quella volta avevamo raccolto le perplessità sia del corpo insegnante che dei ragazzi per quanto riguarda l'esigenza di avere o meno i tornelli e ci siamo comportati in questo modo. Ecco, professori, studenti non erano favorevoli, anche i sindacati della scuola erano contrari, i sindacati che questa mattina ci hanno detto per il momento no commente, decida l'istituto. Prima c'era la dirigente Antonietta Zancan che adesso è andata al ministero, che aveva voluto questi tornelli, oggi c'è Laura Boren, ci ha detto ma adesso valuteremo, ci penseremo un po'. Sicuramente, sì, noi aspettiamo che naturalmente, ma a parte questo voglio precisare che deve essere il Comune di Pordenone a dare la licenza per l'esecuzione, per la costruzione dei tornelli in quanto l'edificio è di proprietà del Comune di Pordenone, il sito è del Comune di Pordenone e naturalmente le cose devono essere fatte nella maniera corretta, ecco, non è che si possa dire facciamo i tornelli e cominciamo a lavorare sui tornelli, insomma. Beh, approfittiamo anche per fare un po' il punto su quella che è la situazione degli edifici scolastici, dell'Uti, insomma ne avete parecchi, insomma tutta l'ex provincia, qual è lo stato di salute? Ecco, questo è il vero problema, non tanto i tornelli, il problema sono gli edifici scolastici dall'ex provincia, soprattutto di Pordenone, dell'area del Pordenonese, mi riferisco al fatto che naturalmente non possiamo continuare a spendere soldi in affitto o a mantenere i nostri ragazzi nei prefabbricati che io chiamo le baracche, inoltre abbiamo anche problemi per quanto riguarda la sesmicità degli edifici che bisogna mettere in sicurezza perché i nostri ragazzi hanno diritto di stare nelle aule che siano sicure e adatte, oltre a questo abbiamo bisogno anche, vedi l'Istituto Carniello di Bruniera che ha un incremento di iscritti, abbiamo bisogno di nuove aule, di risolvere quel problema perché è uno degli istituti di PSIA Carniello dove educhiamo i nostri ragazzi, formiamo i nostri ragazzi per l'industria del mobile che ha necessità di avere personale specifico, specificatamente preparato per la loro attività, quindi anche questo è un problema. Sicuramente il problema degli spazi perché si era detto anche al liceo Grigoletti, forse addirittura pensavano al numero chiuso proprio perché non c'è lo spazio per mettere i tanti studenti che ci sono e questo è abbastanza grave. Certo, il problema è che non è che siano aumentati di smisura i ragazzi, è che Pordenone naturalmente è un polo di attrazione per quanto riguarda gli studenti e inoltre non dimentichiamoci che noi stiamo pagando tanti soldi in affitto e abbiamo dei nostri ragazzi che sono i prefabbricati, questo è un problema che non è corretto, che non è giusto non affrontare. Ecco, eventualmente i tornelli decideranno il Kennedy a questo punto. Sicuramente è un problema del Kennedy. Grazie allora al Presidente dell'Uti del Noncello Giuseppe Gaiarin per essere stato con noi, per questo collegamento è tutto, a voi la linea. Grazie allora Daniele Micheluz, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità poi di nuovo in diretta con a voi la linea. Di nuovo in diretta con a voi la linea, sono stati presentati oggi a Udine i mondiali di Deltaplano, appuntamento atto il mezzo dal 13 al 27 luglio. In regione e soprattutto in montagna l'evento richiamerà almeno 6-7 mila persone al giorno. Ha seguito per noi la presentazione Isabella Gregoratto, sentiamo il suo contributo. Il 22esimo campionato del mondo di Deltaplano si terrà con base operativa a Tolmezzo dalle 13 al 27 luglio prossimi, interessando i cieli di buona parte della regione. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine alla presenza dell'assessore regionale all'attività produttiva al turismo Sergio Emidio Bini, che ha posto l'attenzione sull'importanza di eventi del calibro dei mondiali per promuovere al meglio la regione sia in Italia che nel mondo. Il Friuli Venezia Giulia, in particolare il suo canale Promo Turismo, ha appoggiato il progetto fin dall'inizio, partecipando con una delegazione alla presentazione della candidatura avvenuta a febbraio del 2016 a Lausanna nella sede della Federazione Aeronautica Internazionale. Tolmezzo ha ospitato i premondiali nel 2018. Abbiamo fatto le prove generali, anzi qualcosa di più col Giro d'Italia l'anno scorso e questo rafforza il ruolo di Tolmezzo come campo base per tutta una serie di attività che valorizzano il territorio. Quindi non è Tolmezzo da sola ma connesso con gli altri comuni del Friuli perché è la porta di accesso alle Alpi, alla nostra pedemontana e quindi è il luogo ideale dove far convergere anche questa grande manifestazione perché vista dall'alto, anche vista dall'alto, il nostro Friuli, la nostra Carnia, il nostro patrimonio è bellissimo. Tra l'altro confinate anche con quello che è considerato lo Sportland, quindi collegamenti. Sì, non solo confiniamo ma facciamo parte proprio assieme anche a Gemona, questo territorio, la sfida è riuscire a caratterizzare il nostro territorio come una vocazione sportiva, sportiva non solo agonistica ma anche legata al benessere e alle famiglie e le manifestazioni di punta servono anche a questo. È una sorta di collaborazione anche con i paesi che confinano con noi? Sì, sicuro perché anzi il volo stabilisce connessioni, il volo non conosce confini, ci va oltre ed è una tessitura tra i territori anche confinanti, questo è meraviglioso. Importanti i numeri del FAI anche per Gradisca di Sonzo, con oltre 2000 persone che hanno raggiunto la fortezza. Ci facciamo raccontare tutto da Ivan Bianchi. Buongiorno cari telespettatori, ci troviamo di fronte al castello di Gradisca, lo vedete alle nostre spalle, io mi trovo col sindaco Linda Tomasini e con l'assessore Alessandro Pagotto. Siamo qui per parlare non solo delle due giornate FAI di primavera che ieri è veramente fra sabato e domenica hanno portato possiamo dire più di 2000 persone qui a Gradisca ma anche per raccontare un po' quelli che sono stati gli interventi che l'amministrazione comunale ha effettuato per salvaguardare le mura e il castello e per ridare insomma dignità alla fortezza. Io comincio con il sindaco, sindaco sono state due giornate intense, importanti e anche per dare visibilità a una città che merita questa visibilità. Le giornate del FAI sono un format che riscuote sempre grande successo, tanto che diverse migliaia di persone, diciamo che ne sono state contate almeno 1500 che hanno partecipato solo ai tour guidati dai ciceroni, dagli apprendisti ciceroni, quindi diverse migliaia di persone sono arrivate a Gradisca, dalla regione ma anche da fuori regione. Questo ha permesso alla nostra città di mostrarsi con una visibilità molto importante e quindi con delle ricadute anche sul nostro territorio, sia in termini economici perché devo dire che hanno riscontrato grande successo e quindi hanno lavorato molto bene tutti gli esercizi che ieri erano straordinariamente aperti per questa giornata, per queste due giornate in realtà e poi hanno riscosso molto successo il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio storico. Quindi 900 persone almeno sono entrate a visitare il castello, aperto eccezionalmente grazie alla straordinaria collaborazione con la ditta che sta eseguendo i lavori, la ditta Innocenti e Stipanovic e grazie anche al provveditorato alle opere pubbliche che ci ha concesso questo che è sicuramente un dono per i visitatori e per i cittadini di Gradisca. Erano veramente molto emozionati ed era un appuntamento molto atteso da loro. 35 anni che si attendeva l'apertura del castello? 35 anni che si attendevano lavori, delle aperture ci sono state ma sempre sporadiche. Noi contiamo che già al termine di questo primo lotto di lavori si possano visitare i camminamenti e perlomeno entrare in sicurezza nel castello e poter godere degli edifici dall'esterno. Appunto adesso mi collego e chiedo all'assessore Pagotto cosa sono stati fatti i lavori qui al castello di Gradisca? Ma i lavori sostanzialmente hanno riguardato il recupero funzionale dei camminamenti al di sopra le mura del castello e anche il consolidamento di tutti gli edifici affinché lo stato di degrado non peggiori nel tempo e quindi venga conservato allo stato attuale. L'amministrazione comunale si è fatta parte attiva in questi anni, ha spinto per advenire ad un atto di intesa con la soprintendenza, l'agenzia del demanio, la regione e appunto il comune stesso, hanno costituito questo atto di intesa che ha portato poi alla costituzione di un tavolo tecnico operativo al fine di individuare degli percorsi di valorizzazione del castello ma anche per apportare delle revisioni ai progetti già in essere e che hanno portato attraverso questa attività al cantiere che è stato avviato già nella primavera del 2018 e i cui lavori sono in corso e i visitatori e i cittadini hanno potuto goderne in queste due giornate di apertura. Non solo castello ma anche le mura sono state ripulite e quindi sono state donate nuovamente la città? Anche le mura in qualità di bene strategico per l'amministrazione, in questo caso anche in riferimento all'estensione che hanno sul territorio parliamo di oltre mille metri di sviluppo, è chiaro che valorizzare le mura significava valorizzare tutto il territorio e tutta gradisca, quindi l'amministrazione già dai primi anni si è attivata in questo senso e in questo caso ci sono stati due tipologie di intervento, una prima tipologia riguardato la sistemazione idraulica in particolare della roggia che corre tutto attorno le mura e delle aree golenali, una seconda fase invece ha visto l'intervento direttamente sul bene culturale, quindi sulle mura e ha riguardato sostanzialmente l'estirpazione di tutta la vegetazione dalle mura e anche il consolidamento di alcuni tratti di corpi murari. Non resta quindi anche oltre queste giornate del FAI venire a gradisca vedere le mura, visitarla in tutti i suoi aspetti. Io ringrazio l'assessore Pagotto, il sindaco Tomas Insic e a voi la linea. Grazie a Ivan Bianchi per questo servizio. A questo punto a noi non resta che dare la linea al nostro Marco Virgilio per la consueta rubrica dedicata alle previsioni del tempo. Vi ricordo subito dopo l'appuntamento in diretta con il punto di Enzo Cataruzzi, avremo oggi ospite in studio l'assessore regionale alle attività produttive Bini. E poi il prossimo appuntamento con l'informazione di Telefriuli in diretta alle 19. Vi ricordo ancora l'appuntamento classico del lunedì alle 21 con Bianconero. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Buongiorno, ben trovati a tutti, buon inizio di settimana. Una settimana che fa seguito a un weekend che praticamente era da maggio inoltrato, non certo da marzo, con una modifica in vista, una modifica che vede l'alta pressione ritirarsi un po' verso l'Atlantico. Si apre un corridoio di correnti più fredde, diciamo più, perlomeno più fresche, e questo fronte transiterà proprio oggi, portando un po' di instabilità. Ma le cose si ristabiliranno molto rapidamente, domani già ci sarà più sole. Caleranno un po' le temperature, però in effetti in questi ultimi giorni si sentiva parlare, torna l'inverno, non torna assolutamente l'inverno. Diciamo che se ieri abbiamo 23-24 gradi, in qualche caso anche 25, ne avremo 17-18. Non è che viene nessun inverno. Cominciamo a vedere oggi intanto la situazione. La mattinata è iniziata con cielo sereno, vediamo pure la cartina, un cielo sereno che poi vedrà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e soprattutto tra il pomeriggio e la sera ci sarà un po' di variabilità, con qualche densamento a tratti un po' più intenso. La possibilità di qualche debole pioggia in generale, forse qualcosa di più consistente si può avere nel caso di rovesci. Ci potrebbe essere qualche rovescio, anche qualche temporale, perché entra in quota dell'aria più fredda e trova dell'aria ancora calda. I venti tenderanno nel corso del pomeriggio e in serata a disporsi settentrionali con intensificazione della bora sul golfo di Trieste. Discorso temperature, oggi comunque arriveremo intorno ai 18 gradi in pianura. Si farà sentire l'aria più fresca soprattutto verso sera con i venti da nord-est. Vediamo domani, passato il fronte, torna subito il sereno su tutta la regione. Siccome sono previste oggi precipitazioni relative, piuttosto scarse, continua, se vogliamo, la tendenza del clima a rimanere secco nella nostra regione da parecchio tempo, a parte qualche episodio più isolato. I venti sono ancora nord-orientali, come vedete è un po' più fresco al mattino, un grado, i valori minimi previsti e massimi intorno ai 17. Siamo ancora avanti per notare proprio l'episodio di oggi per quanto riguarda il grafico delle precipitazioni. Il calo della temperatura, che poi gradualmente si riporterà verso i valori medi, probabilmente anche li supererà. Mancheranno invece ulteriori apporti di pioggia, nessuna precipitazione in vista, fino a fine mese. Per quanto riguarda aprile sarà da vedere come evolverà la situazione, perché c'è naturalmente una dispersione ampia degli scenari previsti, per cui non possiamo fare una previsione. Bene, vediamo il riepilogo per chiudere con le giornate che saranno, scusate questi nomi sbagliati, ma le giornate che saranno lunedì, martedì, mercoledì, saranno tutte con cielo sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, farà più fresco la notte, si potrà arrivare anche a zero, però in realtà di giorno continueremo a restare tra i 16 e i 18 gradi. Poi il tempo resterà ancora stabile, come abbiamo visto, per almeno diversi giorni. Poi vediamo se aprile riserverà qualche novità, per ora non sembra. Seguiteci anche sul sito di Telefriuli, trovate le previsioni aggiornate. Direi che è tutto, vi saluto, ci vediamo più tardi, arrivederci. Grazie a tutti.